L'Italia è tutta spettacolare, ma ci dicono che siamo in crisi, in realtà c'è chi vuole comprare in svendita le nostre bellezze, ma compreranno degli edifici, non la cultura che ha creato questi edifici. Noi in Italia abbiamo queste meraviglie, voi che volete comandare il mondo non avete creato nulla, qui c'è arte, cultura, storia, voi avete solo dei soldi e l'arroganza del potere.